Basta, è finito gli anni! Quali? 23 milioni di turisti all'anno! Non si cammina per le strade, è impossibile vivere in questa città! Eppure durante il lockdown si era detto che non si poteva continuare così, è il momento di ripensare la città! Ripensare a come fare ad arrivare più di prima! Perché qui la gente pensa solo al turismo, a ciappare gli schemi, ma ai veneziani chi è che pensa? Qua la gente si è pronta ad affittarsi al mare per fare schemi! Hello? Hello? See you at the 5 o'clock! Ma con chi sta parlando? Con chi sta parlando? No, c'è una coppia di americani che arriva adesso che vuole fare un check-in, capito? Ma come? Parla tanto e poi fa anche lei come tutti gli altri? Eh, ma non sembra la stessa roba! Eccoci, ecco qui vediamo questo magazin, al piante, è umido, senza saniare nella finestra, è molto bello! Se pesca che resta, no! Se monta all'IKEA e lo abbiamo sistemato, no! Eccoci, eccoci un momento! E questo quello, oppure per portare su gammondi? Si, si, su gammondi! A presto! È un caso! Poggiungo su, in inglese o coreano. Escolta, non mi sei che vai in onda questa roba?